Cari colleghi, buongiorno. Dato l'annuncio che è stato fatto che la scuola riprenderà, se riprenderà a maggio, vi ho preparato un modello di planning generale di programmazione individuale perché penso che sia necessario a questo punto programmare l'attività sul lungo periodo. Quindi partiamo da qualche giorno dopo questa situazione fino ad arrivare a metà giugno. Prima di spiegarvi il funzionamento di questo planning vi voglio mostrare come lo potete recuperare. Voi entrate nel vostro classroom e all'interno del vostro classroom avrete ovviamente le vostre classi, varie cartelle. Entrate in laboratorio lezioni online. Qui trovate la cartella strumenti per i colleghi. Accedete all'interno di questa cartella dove trovate dei file. Li selezionate tutti e tre o quelli che vi interessano perché questo è il planning realizzato in Excel, questo è il planning realizzato in Numbers e questo è il planning attraverso l'applicazione Fogli di Google. Se voi li selezionate tutti e tre o quello che vi interessa, poi con il tasto destro del mouse potete creare una copia oppure li potete scaricare. Create una copia e spostate questa copia dove desiderate all'interno del vostro ambiente oppure la scaricate e poi la ricollocate all'interno di Classroom. Per tutti coloro che non sono miei colleghi vogliono avere questi strumenti devono accedere a WeSchool e iscriversi alla classe webinar attraverso il plussante più webinar e poi vi iscrivete alla classe. All'interno trovate tutte le informazioni necessarie e nelle varie borde trovate alcune decine di webinar che io ho realizzato e distribuito gratuitamente e questi webinar hanno anche le slide, risorse eccetera per cui potete scaricare da qui la documentazione. Quando aprite questo modello in Excel, in Numbers o all'interno di moduli, come sto io facendo ora, trovate queste prime caselle precompilate per farvi vedere che cosa dovete fare. Qui inserite la materia, inserite la classe, quindi vedete che avete tutti gli spazi, ho duplicato queste aree diverse volte in modo che anche quelli che hanno più materie o più classi possono utilizzare questo planning. Quindi dicevo qui inserite la materia, la classe, delle annotazioni, vedete note, potete scrivere qui dentro, qui avete l'argomento, l'argomento andrà inserito ogni volta secondo la data che avete stabilito. Lo stesso per l'orario è molto semplice, qui avete delle caselle di controllo che potete spuntare a secondo che si tratti di lezione o di compito e poi in risorse materiali potete dare delle indicazioni sugli strumenti che avete utilizzato. È un ottimo promemoria questo per voi perché avete rapidamente il controllo delle giornate, degli orari impegnati, di quello che dovete fare e ovviamente nessuno vi vieta di pubblicare questo e farlo conoscere ai vostri studenti. Potete anche copiare e incollare in un altro moduli, per esempio, solo la striscia che riguarda una determinata classe e condividere questa striscia. È molto importante in effetti che gli studenti abbiano un quadro, un quadro molto preciso, è molto complicata la situazione che stiamo vivendo, la didattica a distanza non è una cosa che si impara in due minuti, ci sono delle procedure e dei metodi ma c'è anche la creatività e lo stile dell'insegnante. Io insegno dal 1999 con questi strumenti, quindi insegno anche nei master universitari, dunque diciamo che è una certa esperienza che mi piace condividere. Ovviamente avete la possibilità di modificare questo modello, di crearvene uno apposta, di considerare quello che io vi sto offrendo come un semplice spunto di ispirazione. Quello che resta è l'organizzazione. Però vi devo insegnare un trucco molto importante. Come fate a scrivere dentro una cella? Perché vedete, io per esempio scrivo, scrivo così a caso, vedete? Scrivo a caso e poi voglio andare a capo. Ma se vado a capo e batto il tasto Enter, passo in un'altra cella. Quindi la cosa non funziona. Io voglio andare a capo quando pare a me. Per esempio, io desidero andare a capo a questo punto. Che cosa devo fare? Mi colloco dentro la cella con il cursore e poi tengo premuto il tasto Opzione della mia tastiera. E mentre tengo premuto il tasto Opzione, batto anche il tasto Invio o Enter. E quindi in questo modo posso andare a capo finché mi pare e costruire, per esempio, anche delle liste. Quindi spero di aver fatto un servizio utile. Vi saluto e arrivederci. Ciao!